Loro si sono conservati, io penso che sia stato Beppe Carletti, che viene, ma non è un'offesa dire che viene dalla terra, non credo che venga dalla terra, ma viene da un mondo in cui le cose vengono a conquistarsi e non si possono buttare via, si deve andare avanti con un nome, con un atteggiamento, ecco perché i nomadi sono ancora al mondo, suonano ancora, hanno un grande successo, dopo 60 anni, e 60 anni per un gruppo così sono tantissimi.